Dopo domani, domenica 30 aprile, il nuovo appuntamento con la trasmissione settimanale di A2x2 con il consulente in onda su Sicilia TV. A tenerci compagnia, come sempre, sarà il ragioniere Giuseppe Veneziano, che ha preparato per l'occasione tanti argomenti di natura economica da affrontare in maniera semplice e pratica. Il commercialista andrà a rispondere a tre quesiti posti tramite fax da voi spettatori, tutti a tema IMU. Sembra infatti essere l'argomento più gettonato quello riguardante l'imposta municipale unica e vari modi per essere esentati dal pagamento della stessa. Verranno affrontate tre situazioni diverse in cui il Veneziano chiarirà se ci sono o meno i presupposti per poter affidare un immobile incomodato d'uso, avendo così la possibilità di risparmiare sull'imposta. Fugato ogni dubbio, il ragioniere andrà poi ad affrontare un altro tema importante, la dichiarazione dei redditi e il relativo modello 7.30. Andranno analizzati casi in cui è necessario o meno dichiarare i propri redditi. Infine il ragioniere veneziano anticiperà anche alcuni argomenti della prossima puntata, tra i quali le spese detraibili dal reddito. Tanta carne al fuoco, insomma. Se siete curiosi, il prossimo appuntamento con Tu per Tu con il consulente, ricordiamo, è per domenica alle ore 10.30 e alle ore 18.00. Le repliche saranno poi lunedì alle ore 18, il mercoledì alle ore 21, il venerdì alle ore 2.45 di notte e sabato alle ore 10.30. Tutte le puntate della rubrica Tu per Tu con